Il nome Vento è l'acronimo che unisce Veneto e Trentino, luoghi dove risiedono i due ideatori del cocktail a base di grappa, il primo ad entrare nella prestigiosa lista IBA, International Bartenders Association, una creazione nata dall'affiatato lavoro in tandem di Samuele Ambrosi e Leonardo Veronesi, esperti bartender dalla spiccata vena creativa. Il drink è nato ufficialmente nel 2019 quando Ambrosi, cofondatore del Clock Room Cocktail Lab di Treviso, ha messo mano alla ricetta originale del collega e amico Veronesi, titolare della Riva Bar o Riva del Garda, dando vita alla bevanda che oggi può contare il prestigioso riconoscimento il Presidente Zai e esprime soddisfazione per l'ennesimo traguardo raggiunto. Grazie.